Runanubandha significa la memoria fisica che porti dentro di te. Questo può accadere per un legame di sangue. Questo può anche accadere per delle relazioni sessuali, che il corpo ha una certa memoria. Non è appropriato dire memoria genetica. Runanubandha non è come i fattori genetici che vengono trasmessi da genitore a figlio, non a quel livello. C'è una memoria fisica che ricorda da dove vieni, non necessariamente in termini di colore della tua pelle, forma del tuo naso, come sei fatto, la tua razza, non quello. È solo che se semplicemente tieni la mano di qualcuno, svilupperai Runanubandha. Ecco perché in India, se vieni la gente farà così. non vogliono fare questo. Ti ameremo così. E ci sono molte cose. Non daranno certe sostanze. Nessuno ti darà del sale o riceverà del sale da te. Se provi da loro del sale, diranno, tienilo qui. Non vogliono prenderlo dalle tue mani. Il til o semi di sesamo non li prenderanno da te. Certi tipi di suolo nessuno li riceverà da te. Se vuoi dare del suolo a qualcuno, qualunque tipo, ci sono dei rituali nei quali il suolo viene dato, lo tieni sempre giù. Lo prenderò da lì. Non prenderlo mai dalle mani di qualcuno perché svilupperai Runanubandha. Perché la cultura è costantemente consapevole di non creare un vincolo. Per mantenere il vincolo della vita al minimo, solo nella misura in cui è necessario, perché stai lavorando per la tua liberazione. Per questo, questa consapevolezza e queste sensibilità sono giunte. Quindi il corpo ricorda ogni tipo di intimità, non solo con un altro corpo fisico, ogni tipo di intimità, anche con qualunque sostanza fisica. Lui ricorda. Certi tipi di sostanze sono più in grado di farlo. Altri tipi lo sono meno. Quindi, per questo, qui al Tempio fanno Klesha Nashana. Qualcuno l'ha fatto? Il lavaggio con il fuoco. Cioè, se non stai diventando pulito con la doccia normale, ti bruciamo. Quindi, Klesha Nashana è un modo di bruciare vari tipi di memoria fisica che abbiamo raccolto. non necessariamente a causa delle relazioni, solo per contatto, solo venendo in contatto con così tante cose, persone, situazioni, atmosfere. di così tante cose questo corpo raccoglie la memoria. La memoria fisica, oltre a un certo punto, ciò che raccogli causerà un certo livello di confusione. Confusione non qui. Questa confusione è una cosa diversa. Quella è qualcosa che ti sei guadagnato. Ma, confusione fisica. se il corpo è confuso non può aggiungere all'agio. Molti di voi hanno notato questo. Certi giorni il tuo corpo sembra essere confuso. Lo hai notato? Ovunque ti siedi in qualche modo. Un altro giorno ti siedi ah. Quindi, abbiamo creato diversi sistemi di purificazione. Una cosa è il lavaggio con il fuoco. Il lavaggio con l'aria. Davvero. E, naturalmente, il lavaggio con l'acqua ogni giorno. Sai, quando ero in un periodo in cui facevo molta sadhana, facevo tra le 5 e le 7 doce al giorno. Perché il tuo sistema diventa così sensibile. Ti sei seduto su questo cuscino. Ora sei consapevole di cosa questo cuscino ti sta facendo. Quindi, vuoi purificare almeno solo acqua che scorre sul tuo corpo dalle 5 alle 7 volte al giorno. Questo non è calcolato. Devo farlo 5 volte o 7 volte. Ogni volta che ti sembra necessario, la maggior parte degli yogi fanno la doccia almeno 2 volte al giorno. Minimo. Di solito è un'immersione nel fiume. Almeno una volta ti immergi nell'acqua corrente così che sei purificato. E, durante il passaggio dell'emisfero sud all'emisfero nord che accade ora e di nuovo da nord a sud a giugno-luglio in questi periodi i venti sono forti nei paesi tropicali o almeno in India. Nel subcontinente indiano i venti sono forti. Quindi, ci sono dei semplici processi in cui devi andare a stare in piedi nel vento così che ricevi un lavaggio con il vento. Un vero lavaggio ad aria. Vedrai, farà meraviglie per te. Prova questo. Quando c'è una forte brezza indossa qualcosa di ampio e stai semplicemente lì in piedi per mezz'ora essendo consapevole di questo con gli occhi chiusi sia da questa parte che da dietro ricevi abbastanza brezza che scorre su di te. Torni a casa e ti senti molto meglio e più leggero. Non lo sai probabilmente. Tutti i sanyasi, tutti i Saadu e i sanyasi usano sempre del fango molto finemente setacciato della terra rossa per colorare i propri vestiti. l'intero ashram è dipinto così perché è semplicemente suolo che abbiamo usato. Ok? Il suolo con un certo collante aderisce come vernice e tutti gli edifici con le cose intorno a te solo con il pianeta. questo va bene perché se indossi dei vestiti perché la parola suolo qui è usata in modo diverso se indossi dei vestiti sporchi di suolo no, no, non così immersi nella terra rossa se indossi questi vestiti in qualche modo è un promemoria per il corpo riguardo a da dove proviene e dove andrà. Quindi coloro che sono sul cammino spirituale usano sempre dei vestiti che sono stati immersi nella terra rossa filtrata. Non lo vedrai non sembra ma in realtà il colore stesso in realtà sono vestiti bianchi trasformati in color fango perché sono stati costantemente lavati con della terra filtrata. Quindi purificare il runa nubanda un modo di farlo è che fai un bagno di fango. Quindi esistenzialmente quando la memoria fisica si sopravpone a se stessa causerà un livello fisico di confusione che porterà a un certo livello di disagio mancanza di esuberanza mancanza di coinvolgimento con qualunque cosa che diventi un veterano mentre vivi devi essere un veterano della vita una volta che hai finito con essa. Prima che tu abbia finito non dovresti diventare un veterano non è così? Ma quello ti accadrà cioè in qualche modo per la sovrapposizione della memoria diventi meno vivo verso ogni cosa che ti circonda. È questo che ci preoccupa che tu stia diventando meno vivo. che ti accadrà per la sovrapposizione che ti accadrà